un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1 per incidente 4 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma ancora in direzione Roma per traffico intenso code tra Firenze Imprunite e Incisa Reggello e sulla variante di Valico tra il Vivio per la 1 e Badia sulla FIPILI code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare e code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa su raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei riadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonsi e Tavarnelle sulla regionale 2 Cassia per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del km 291 Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze vi auguriamo un buon viaggio